Ciao a tutti ragazzi da Zebra, Udinese Inter 3 a 1, vergognatevi, vergognatevi, vi hanno preso a schiaffia, pallonate, non ci avete capito un cazzo? ragazzi scusate ma proprio me lo devo liberare visto che ci avete preso per il culo fino adesso, cioè ma prima di prenderci per il culo a noi, cioè guardatevi a casa vostra, guardatevi a casa vostra, vi hanno preso a pallonate, a pallonate, bella squadra, che Udinese, da quando è finita l'Udinese ha solamente attaccato, cioè l'Udinese ha solamente attaccato, per quanto vi ha messo in difficoltà, per quanto vi ha messo in difficoltà, siete stati costretti a fare il cambio, anche nel primo tempo, due cambi, mettere bastoni perché la Giava ha preso l'ammunizione, cioè vi ha distrutti, Sotil vi ha letteralmente distrutti, vi ha bloccato in campo, vi ha bloccato, vergogna, 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 poi vieni a fare i moralisti con la Juventus, scorsi, qua, là, ma guardate a casa posta, tre pere, tre pere, benissimo, 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 ragazzi, è stata una partita, ma bella, bella da una parte, dall'altra parte, dico, mi dispiace anche, mi dispiace, perché vederli così, madonna mia, noi siamo messi male, noi siamo messi male, ma voi guardate, a quante sconfitte siete in campionata, tre sconfitte già, Simone Inzaghi non sta capendo niente proprio, Simone Inzaghi, schiaffi, da tutte le parti sta prendendo Simone Inzaghi, ragazzi, penso che anche voi dovrete cambiare, da oggi, hashtag Simone Inzaghi out, dai, anche voi, oggi, oggi anche hashtag Simone Inzaghi out, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, va bene ragazzi, volevo fare questo video, io, diciamo, sfotto, però, guardatevi a casa vostra, guardatevi a casa vostra, andate a guardare a casa vostra, ragazzi, forza Juve, si comincia col Monza, dai, dai, andiamo, 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 hashtag Simone Inzaghi a casa, ciao ragazzi.